E appunto rispetto a quanto è appena stato detto, io mi volevo soffermare su questo concetto di vaghezza, ricollegandomi poi a quanto veniva detto prima da Manuel Anselmi rispetto a questa dinamica del basso contro l'alto che poi abbiamo visto in Europa si è data soprattutto nella contrapposizione alle elite finanziarie, alle oligarchie di classe che hanno dominato e che hanno speculato attraverso la crisi del 2008. Perché mi volevo soffermare su questi due concetti? Perché comunque mi sembra che siano quelli attraverso cui si dà una sorta di ambiguità all'interno del fenomeno stesso del populismo, veniva appunto anche accennato prima. In che senso ambiguità? Nel senso che effettivamente uno può riporre le proprie domande inascoltate nella figura, nel corpo di un leader e però questo leader può assumere dei tratti che sono sia, per ricollegarci a categorie forse un po' obsolete, un po' vecchie del Novecento, però sia di destra che di sinistra. Abbiamo parlato della vaghezza, prima stavamo commentando che quando Macron si riferisce agli oppressi, agli oppressi per avere consenso elettorale in Francia, quando Trump si riferisce a quelli che sono stati lasciati indietro, quindi lui è il paladino di quelli che sono stati dimenticati dai gruppi di potere precedenti eccetera eccetera. Ecco, chi sono esattamente questi oppressi? Perché potrebbero essere benissimo tutti coloro che stanno soffrendo la crisi economica, indipendentemente dalle radici etniche, religiose, culturali di genere e così via, così come potrebbero essere per esempio i francesi oppressi dall'arrivo dei migranti sud-europei, quindi dagli italiani che fanno i turisti del welfare in Francia, oppure nel caso dei statunitensi i musulmani che arrivano e che vogliono fare una sostituzione etnica all'interno degli Stati Uniti. Mi sembra che appunto questa vaghezza e questo basso contro alto sono un po' degli strumenti, almeno questo è quello che abbiamo provato a dire noi nel nostro documento, evitare la catastrofe, che rischiano di far scivolare in alcuni errori, perché comunque il populismo, come si diceva prima, ha sempre bisogno di stabilire una frontiera interna e di conseguenza di stabilire chi è incluso all'interno della rivendicazione populista contro i poteri forti e chi ne è inevitabilmente escluso. Quindi volevo fare questa domanda a Francesco Biagi, che è un attivista del progetto Rebeldia di Pisa, dottorando in sociologia a Pisa e diciamo curatore di un numero della rivista del Ponte sui populismi, all'interno della quale anche Mario Pezzella ha scritto un suo contributo. Continuando sul solco della critica della ragione populista fatta da Mario, parto da una breve citazione di Laclau. Laclau dice che il populismo è una logica politica e sostiene, Laclau, che il linguaggio del discorso populista, di sinistra o di dersa, sarà impreciso e fluttuante, non a causa di qualche carenza cognitiva, ma perché tenta di operare performativamente all'interno di una realtà sociale che è in larga misura eterogenea e fluttuante. Questo momento di vaghezza e imprecisione è una componente essenziale di ogni operazione populista. Parto dalla Laclau per mettere in evidenza appunto come uno dei più grandi teorici del populismo, un filosofo che ha preso sul serio il concetto e dichiara di utilizzarlo in maniera neutra, nel senso che lui non vuol dare né una connotazione positiva ma né una connotazione negativa. Dice di volerlo prendere come una categoria del politico e è egli stesso appunto che rivendica questa vaghezza, questa imprecisione, tanto da definire il populismo come una logica politica. E a proposito, per approfondire questi concetti di vaghezza e imprecisione, vorrei fare quattro esempi di populismo che abbiamo visto attraversare l'Italia. Il primo che mi viene in mente è quello di Berlusconi e seguendo le caratteristiche dei populismi dette da Mario, Silvio Berlusconi nasce sulla crisi di due blocchi precedenti, il potere democristiano e il potere comunista. Rimescola le carte e ridisegna due blocchi sociali nuovi, imbarcando anche ex comunisti, ex socialisti e a partire dall'individualismo proprietario che propone attraverso la sua biografia, ridisegna appunto il campo di un blocco, del suo blocco, del suo popolo, che è il popolo di chi vuole liberare l'individuo dallo Stato, dalle leggi e vuole vivere profondamente le logiche del mercato. E il blocco avverso sono appunto da un lato i comunisti e da questo punto di vista ha risuscitato un vecchio nemico, dall'altro lato però sono appunto i giudici, sono lo Stato, sono tutte quelle persone lì che secondo lui vogliono imbrigliare l'antropologia che lui porta avanti e propone come modello anche di successo attraverso la sua politica. Il secondo esempio che mi viene in mente è quello di Renzi. Renzi è secondo me l'espressione di un populismo da un lato che crea anche lui due blocchi nuovi, i progressisti e i conservatori. C'è una ripubblicazione del saggio di Norberto Bobbio da parte della Donzelli, destra e sinistra, dove Renzi scrive una prefazione, una prefazione curiosa, dove appunto lui rimodella la categoria di destra e sinistra dicendo che sostanzialmente non esistono più ma ci sono appunto i conservatori progressisti e lui è quello che trainerà il Partito Democratico verso questa nuova composizione del progressismo. E attraverso questo ridisegnare i due blocchi sociali in realtà però maschera i poteri che stanno dietro alla crisi economica e di conseguenza lo definirei un populismo dall'alto perché credo che ultimamente, lo vediamo anche per esempio con Macron, i poteri economici europei, le istituzioni europee per legittimare le loro politiche negli stati accettano il terreno del populismo e lo incarnano riproponendo appunto delle persone che ridisegnano i blocchi sociali, superano anche la destra e la sinistra e di fatto propongono un europeismo neoliberale molto forte. Il terzo esempio che propongo è quello dei grillini dove appunto il ridisegnare i due blocchi sta negli onesti e nei disonesti e a partire da questa costruzione appunto questa dicotomica tra l'onestà e la disonestà anche nel campo grillino possono convivere istanze ambientaliste con istanze antimafia e anche certe istanze più di destra come posizioni xenofobe e razziste. L'ultimo esempio su cui mi fermo è il populismo di Salvini. Salvini anche attraverso le liste, i gruppi di noi con Salvini fa diventare la Lega un partito nazionalista dal primo al nord di Bossi da appunto la dicotomia persone del nord che lavorano contro i terroni nulla facenti o contro Roma ladrona Salvini ridisegna la Lega su un piano nazionale perché capisce che le categorie di Bossi di fronte alla crisi economica non servono più quindi come fa a coinvolgere il ceto medio impoverito? Da un lato cavalcando da un punto di vista conservatore sì, un astio contro la Troica, contro l'Europa ma dall'altro proponendo il nemico nell'immigrato e appunto ridisegna un partito nato appunto da istanze regionali con istanze nazionali e attraverso questo sfrutta anche l'estrema destra perché Salvini sappiamo benissimo come strizzi l'occhio all'estrema destra fascista e in questo, questo lo fa non perché ha bisogno di richiamarsi a un passato mitico del ventennio mussoliniano ma perché questo strizzare l'occhio alla destra xenofoba e razzista gli permette anche di stringere alleanze rispetto ad altri partiti europei gli permette di esprimere simpatie per Trump e così via quindi un uso anche diciamo di chi è più a destra di lui per riportare il suo partito a livello nazionale e mi fermo qui in questo primo giro potremmo dire che forse la quinta forma di populismo è il populismo di sinistra che manca in Italia manca ma qualcuno lo ripropone però magari nel corso del dibattito apriamo anche le critiche rispetto a questa forma grazie a tutti